Tutti si aspettavano che quello di oggi potesse essere un giorno chiave per la questione della stazione Medio Etruria e invece siamo ancora in una fase interlocutoria, confermano dal Comitato Sava. Si è comunque riunito questa mattina il tavolo tecnico a Roma, oltre ai tecnici del Ministero e delle Regioni, presenti anche gli assessori regionali. La sfida tra Toscana e Umbria sulla localizzazione della stazione dell'alta velocità andrà avanti fino almeno ad agosto. Sul tavolo le ipotesi di Rigutino-Arezzo-Sud, Creti-Farneta-Santa Caterina nel Cortonese, Montallese-Treberte nel Senese. La prima è quella che partiva in vantaggio ma quella di Creti ha preso quota con l'Umbria che la spinge. Il Comitato Sava auspica tempi celeri, si legge in un comunicato per la localizzazione della Medio Etruria già ampiamente analizzata da studi universitari, pareri tecnici e bacini di utenza. Disperdere il lavoro avviato nel 2015 grazie alle Regioni Umbria e Toscana equivarrebbe a retrocedere lo sviluppo economico e sociale di più province e corrispondenti regioni. L'auspicio, conclude la nota del Comitato, è di arrivare a questa opportunità per il futuro dei giovani, delle imprese e di tante famiglie del centro Italia.